Hola a tutti ragazzi, è il vostro Luke e oggi siamo ritornati finalmente nel server di Miticaccio Ebbene si ragazzi, finalmente abbiamo costruito un nuovo spawn dove appunto voi inizierete la vostra avventura E vi ricordo ragazzi, l'IP l'ho trovato in descrizione Mi raccomando, ci stiamo impegnando un po' tutti a migliorare questo server Infatti ragazzi arriveranno diverse cose davvero fighe Come ad esempio lo shop, l'arena VWP, la mob arena e tante cose che meritano Questo spawn ragazzi l'abbiamo creato io ed Ice Ice principalmente ha creato due cose Il ponte e questa schermata di vetro che devo dire che è abbastanza figa Anzi molto figa, perché vedete da lontano fa il suo bell'effetto Mentre io ho pensato agli interni che dico Dai so fighi no, ci stanno E non lo dico perché l'ho fatto io ragazzi, perché comunque anche a Miticaccio gli sono piaciuti A Ivan che è uno dei fonderi gli è piaciuto, quindi ragazzi penso che vada bene Poi qui ragazzi trovate le regole Vi date utilizzare qualsiasi hack, vi date insultare e bestemmiare Vi è dato spammare nella chat, quindi se mandate link, altri server, altri ds Ragazzi venite temp bannati, in che senso? Può essere un ban di un'ora, di due ore, come può essere di una settimana in caso di hack Il griffing tra utenti è legale ragazzi, quindi se uno di voi trova una base di un'altra persona Non abbiate paura, potete griffare ragazzi perché è licito Ogni frazione delle regole è ponita con un ban temporaneo, come ho detto prima E poi truffare non è illegale, quindi ragazzi per le truffe dovete essere molto attenti voi Noi diciamo non risentiamo dei vari report vostri, in che senso? Se hai fatto uno scambio con una persona, però questa persona vi inganna e vi truffa Noi non risarciamo nulla ragazzi, ve lo diciamo giusto per correttezza Perché così non andiamo a creare nuovi problemi Poi qui ragazzi abbiamo messo questa linea rossa che praticamente delimita lo spawn Tanto è vero che superata questa linea rossa, qui c'è il pvp, qui non c'è, qui c'è, qui non c'è, qui c'è e qui non c'è Comunque a parte questo ragazzi, oltre alla linea rossa ci sarà sia il pvp attivo che la possibilità di costruire Però ragazzi ovviamente se vi becchiamo che fate dei buchi proprio qui fuori dalla linea rossa Oppure provate a griffare, venite bannati Non so il ban di quanto tempo, ma di certo non la passerete riscia Non è per cattiveria raga, però è così Mititi ha parlato del fatto che vorrei diventare helper, ancora no Raga come voi ben sapete, Miticaccio, Ivan, Maso, sono diciamo i founder, i gestori principali del server Io sono semplicemente un admin in questo caso, trasformato in builder diciamo così Perché comunque sapete, dopo tre anni di server che ho costruito, mi piace costruire e l'ho dovuto fare anche qua Comunque loro sono i gestori principali raga, per i provini e varie cose chiedete a loro, soprattutto Poi se ci sono io online vi farò sapere, però credo che inizialmente non prenderemo staff Poi raga vi ripeto, l'ordine passa ai capi superiori, diciamo così A parte le cavolate raga, questo qui è lo spawn So che la cosa brutta è proprio questo punto, però raga Se volete altri video, aggiornamento Si non durano molto, però vi prometto che per altre serie che farò dureranno di più Qui sono semplicemente dei video in cui vi mostro le nuove costruzioni Per chi vuole raga, lascia un bel like e pubblicherà un video per ogni nuova costruzione che faremo Quindi se facciamo bombarene, se facciamo lo shop, se facciamo l'arena pvp e tutte queste cose belle Inoltre raga, ovviamente vi consiglio di passare dal canale di Miticaccio Il quale fa sempre live, o sulla sua serie Vanilla o proprio qui sul server Poi porta anche altri giochi, ma questi li scoprirete voi Detto questo ragazzi, vi ripeto, se volete altri aggiornamenti riguardanti il server Lasciate un bel like Commentate dicendo cosa ne pensate questo spawn A parte qua, che non mi piace e manca a me il ponte Ditemi cosa ne pensate Se sono stato bravuccio anche col fogolare che non ho mostrato Condividete il video, ma soprattutto condividete il server con i vostri amici raga Perché davvero stiamo cercando di coltivare e creare un buon server Tant'è vero raga che sono tipo le 11 di sera E ci sono comunque 6 persone online che non sono da buttare via Quindi raga, mi raccomando, vi aspettiamo Like, commento, condividete, iscrivetevi al canale Ci becchiamo alla prossima E ciao a tutti ragazzi